Ed ora le sei allegri assassine del carcere della contea di Cook nella loro interpretazione del tango del sole a scacchi. La scuola è cercata, la colpa è e ti vincerà. Se avresti visto ci fossi stato, avresti fatto anche tu così. Ma se ci sarai, ma se ci sarai, ma se ci sarai, ma se ci sarai. Ci sono persone che hanno certe fine quali attitudini che ti ammazzano, di poparvi, a me mi piaceva masticare la gomma, no, 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 non masticare, fai i palloncini, fai i palloncini. Quella sera tornai a casa stanchissima e cercavo un po' di comprensione. E trovo marmina, sbagliato sottofà per evitare masticare. No, non masticare, fai i palloncini. Allora gli ho detto, gli ho detto fai i palloncini ancora una volta e lui l'ha fatto. Sì, ho preso il cugino, è attaccato al muro e gli ho sparato due colpi di avvertimento. Dritto in mezzo agli occhi. Se l'hai cercata, se l'hai cercata, la colpa è che vincerà. Se avessi visto, ci vuoi fissare, l'avresti fatto anche tu così. Ho incontrato il tecchiale e gli anni che sono tre in siti, un paio di anni. E mi ha detto di essere sì. L'abbiamo fatto sì. Lui andava a lavorare, tornava a casa, preparava un drink, c'era una mano. Era il paradiso, due anni e mezzo. Ma un giorno ho scoperto tutto. Single aveva detto. Single è un cazzo! Non solo era sposata, aveva sei mogli. Era uno di quel buon nome, capisci? Quindi quella sera, quando è tornata a casa dal lavoro, è preparata un drink. Come al solito. Lo sai, certi uomini, proprio non lo recano l'arsenca. Canto, se l'hai cercata, ha colpo un fiore, verde e tarare. Lui ne ha usato, non è avanzato, non è verito ma pari. Me ne stavo impiato in cucina, a tagliare il cuore per cena. E mi facevo gli affari neri. E poi arriva Wilbur, mio marito, parso come una cera e comincio a urlare. Ti sei ripassata in lontario? Era un fazzito. Ti sei ripassata in lontario? E poi si è tuffato sul mio coltello. Si è tuffato sul mio coltello ben dieci volte. Non l'avessi visto, ci fossi stato, avessi fatto anche tu così. Mi, che non scelte, posso muocare un po' di chiesa di macchiere, di inglese di macchiere. Dei miei vecchi, di lato di il tuo cuore, nel, da dove, il cui acquistato è un'immunità. Provolto, avere un piacere in mezzo, è un raffinamento. Si, ma si sa. Ah, ma no, no, colpevole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amavo Alvin Lipschitz per quanto fosse possibile. Era un vero artista quel ragazzo, sensibile, un pittore, ma voleva trovare se stesso. Usciva tutte le serie per cercare se stesso. E sulla strada trovava Ruth, Glenn, Rosemary e io. Penso si possa dire che abbiamo andato per divergenza artistica. Lui si vedeva più, e io l'ho visto. Mago! Chi possa non rincare, la chi possa non rincare, se cerca a me, se cerca a me, se la colpa è. Chi sarà? Chi sarà? Ti av Vouierung! Ti avviLipschitz per quanto fosse possibile. Ti avviLipschitz per quanto fosse possibile. Perché tu ho avviLipschitz per quanto fosse possibile. Chi sarà? Ti avviLipschitz per quanto fosse possibile. ma non insommaburgia ma non sarebbe più vecchio per r e invece Grazie.